Ok, ci siamo? Bene, allora adesso abbiamo Matteo Guidotto che fa il project manager, tra le altre cose, e ci illustrerà il suo talk chiamato Buyer vs User Personas. Buongiorno a tutti, parlare dopo Quang non è facile ma spero di essere all'altezza, spero si senta anche bene. Il talk parla di User Persona e Buyer Persona e cerca di analizzare quella che è stata la mia esperienza nell'approcciare alla User Experience e nell'avvicinarsi a queste figure mitologiche delle persone. La prima persona che mi voglio far conoscere oggi sono io, e sono Matteo Guidotto, vengo da Verona, principalmente faccio il PM e l'Uist Developer. Questo in intesis, sono cofondatore di un gruppo di sviluppatori, principalmente front-end, un gruppo che si occupa di chiacchierare, di argomenti che riguardano a 180 gradi lo sviluppo dell'interfaccia digitale e sono tra gli organizzatori di TEDx Verona. Questo talk parte per l'appunto da quella che è la mia prima volta, non quella prima volta, ma la mia prima volta nell'approcciare alla User Experience. Non è stato facile, soprattutto per una persona di estrazione da sviluppatore, e era fatica soprattutto cominciare ad approcciare e estragnarsi dalla propria figura e pensare a un design progettato intorno a qualcun altro. Io ho cercato, sì, di studiare, sì, di ascoltare tutti quanti i consigli, ma la fatica era proprio riuscire ad interpretare i desideri di qualcun altro. Il primo incarico che mi è stato dato, c'erano pochissime indicazioni. Il target, la persona che dovevo andare a individuare, era un tipo moderno, tecnologico e fisicamente robusto, diciamo. E gli ho dato un nome e l'ho chiamato Bruce. Ma, benché avessi fatto un buon lavoro, aveva una faccia, aveva tutti quanti i suoi strumenti, gli avevo dato anche un nome. Ricevete una critica perché non andava bene, perché, benché qualcuno potesse dire il contrario, Bruce non esiste. E allora mi sono concentrato, forse errando di nuovo, ma nell'aspetto di creare qualcuno che esistesse per davvero. E ho creato Chuck. Anche lui aveva la sua faccia e anche lui aveva i suoi strumenti. E anche lui corrispondeva indicativamente a quello che era il target al quale stavamo andando a parlare. Però anche lui non andava bene, era un personaggio famoso. Dovevo cercare di individuare una faccia qualunque. E quello che sono andato a fare è stato individuare Mark. Mark è un tipo tecnologico, ha un iPhone, ha un Mac, è un ragazzo abbastanza moderno, ha la passione per il vintage, come tutti i ragazzi moderni. E quindi l'ho preso, ho convinto, ho impacchettato il mio lavoro, ho fatto tutte quante le mie slide belle e carine, ho messo il suo bel faccione. Sono andato a presentarlo a quello che era il mio committente, il mio cliente. E quello che lui mi ha risposto è che non gli interessava. Non gli interessava questo tipo di utente, non aveva sensibilità riguardo a Mark. E la mia reazione iniziale è stata indicativamente questa. Dopodiché mi sono soffermato sulla sua frase e ho cercato di ragionarci. Io che appunto avevo fatto tutti i miei bei studi sullo user center design, mi ero letto tutti quanti i libri, anche quello dell'INUX, e non riuscivo a capire che forse stavamo parlando su due binari completamente diversi. Poi, confrontandomi e analizzando quello che lui voleva dirmi, in realtà quello che lui voleva dirmi è che quel tipo di cliente non rappresentava, benché fosse il principale utilizzatore del suo prodotto, non rappresentava una fetta di mercato interessante, perché non convertiva come lui voleva. Era uno sviluppatore. Quindi non era il manager che l'avrebbe aiutato ad arrivare a certi obiettivi di business. E questo aveva un senso. Quindi ho smesso di fare questa faccia e mi sono concentrato su quello che può essere la differenza tra uno user e un buyer. Definendo che il buyer, oppure in italiano compratore, ma funziona meglio buyer, è il tipo di cliente che io voglio. È il tipo di cliente dal quale io voglio farmi comprare. È quello al cui io voglio arrivare. Lo user invece è una qualsiasi persona nel letter che decide di utilizzare il mio prodotto, indipendentemente dal fatto che io lo stia progettando e sviluppando per lui. E quindi il ragionamento, partendo dalla frase del mio cliente, cioè non mi interessa quel tipo di utente, è stato ma devo veramente andare a consumare carta, penne, wireframe, aria, fiato, cigarette, alcol, pillole, per uscire a stare sveglio la notte e preparare migliaia di documenti, come avevo fatto prima, per progettare una user experience per un tipo di utente, che poi alla fine in realtà non mi fa raggiungere i miei obiettivi di business. Questo probabilmente no. E quello che devo riuscire forse a forzare in questo processo di creazione di esperienza è che gli utenti non devono definire il mio prodotto. Io non devo lasciare che una qualsiasi persona acceda al mio prodotto e io mi senta obbligato a costruire un'esperienza su quella persona. Ma io devo scegliere la mia audience, scelgo chi deve utilizzarlo, scelgo chi voglio che arrivi al mio prodotto e io costruisco il mio prodotto come lo voglio io e non come lo vogliono gli utenti. Forse forte come la formazione. Il tentativo che devo cercare di fare è quello di portare utenti di valore e non chiunque. Perché se io ho chiunque vado ad investire del denaro, del tempo, del fiato, dei wireframe in qualcosa che poi non rende come ho bisogno che renda. Vado a investire tanto avendo un ritorno altissimo su degli utenti che poi alla fine non convertono abbastanza quanto potrebbe convertirne uno di quelli che vorrei. Parafrasando la user experience ho cercato di definire questo processo creare una buyer experience che passa secondo me per una serie di punti che hanno un impatto sull'utente abbastanza forte che sono ad esempio il fatto di stressare gli utenti il fatto di metterli quasi in difficoltà di metterli alla prova devo verificare se sono all'altezza del mio prodotto non posso permettere che tutti ci arrivino devo fare in modo che ci sia una selezione naturale come se io fossi un locale che vuole un determinato target e non può permettersi di avere un target piccolo che non gli fa convertire come vorrebbe ho bisogno di avere un target selezionato che sia in grado di rendere il mio prodotto al massimo e vado quasi ad invertire quello che è il paradigma mentre prima andavo a lavorare per gli utenti andavo a cercarli cercavo di capire chi fosse utilizzare il mio prodotto andavo a conoscerli andavo a lavorare proprio per far convertire loro ma al loro modo adesso io aspetto gli utenti io decido chi voglio e apro le porte del mio prodotto solo a chi voglio in questo caso vado a cercare quasi di disintossicarmi questa forma di dipendenza che è andata a crearsi un po' come la nicotina devo cercare di disintossicarmi da questa nicotina a essere io la nicotina del mio utente perché l'utente che io voglio ha un bisogno e io devo andarlo a risolvere ma io devo essere la sua dipendenza per riuscire ad arrivare a risolvere quel bisogno tutto questo come? con un segreto allucinante cioè il contenuto è l'array il contenuto è il re ma il contenuto giusto nel momento giusto e nel posto giusto diventa un contenuto di valore diventa un contenuto utile e non diventa un contenuto qualsiasi nell'approcciare il mio prodotto l'utente ha bisogno che i contenuti che gli sto dando siano maturi per l'esperienza che sta vivendo e siano utili per andare avanti nell'avvicinamento al prodotto viene diviso in quattro fasi che sono la parte di attrazione di conversione, di chiusura e di delizia come mi piace chiamarla traducendolo un po' all'italiana la parte di attrazione si sviluppa nel trasformare degli sconosciuti qualunque in visitatori quindi cerco di portare delle persone verso il mio prodotto e questo lo faccio attraverso dei blog attraverso delle keyword mirate e attraverso dei social media quello che vado a fare dopo è la parte di conversione raccolti n visitatori cerco di trasformarli in lead cerco di avere più informazioni quindi io mi avvicino a loro loro si avvicinano a me e questo lo faccio con delle form con delle call to action e con delle landing page arriva il momento cruciale quello della chiusura il momento in cui devo trasformare i lead che ho raccolto in clienti e quindi l'avvicinamento è decisivo questo lo faccio con delle mail mirate con dei workflow nel quale vado ad inserire l'utente e ultimo e forse il più difficile al quale arrivare è quello di riuscire a trasformare i clienti in promotori non è per forza necessario è un livello opzionale diciamo oltre il paradiso se ci fosse una scala questo lo faccio portando il mio tipo di utente con degli eventi e con dei contenuti extra relativi a quello che è il prodotto e così facendo cerco di trasformare quelli che sono stati da prima persone qualunque poi contatti e poi clienti in quasi dei commerciali perché loro andranno poi a idealmente andranno poi a spandere il verbo di quello che è il mio prodotto la la produzione di contenuti per riuscire a creare un flusso del genere è così definita vado a produrre una serie di contenuti per trasformare l'utente quindi prima ho analizzato i tipi di attività qui vado ad analizzare più o meno quelli che sono i tipi di contenuti per le frasi di trasformazione di quest'utente da da un atteggiamento che ho che è quello di lavorare sul sito per generare traffico sviluppo tre livelli che sono il top e il middle nel bottom of the funnel del canale di vendita dove appunto cerco di trasformarli da sconosciuti a clienti tre livelli sviluppo indicativamente così ho un livello top il quale presupposto l'obiettivo è quello di generare dei contatti dei lead e questo lo faccio con dei white paper con delle guide con dei video cerco di dare del materiale in cambio quello che l'utente mi può dare cioè le sue informazioni nella parte middle cerco di generare dei prospect cerco di avvicinarli ancora di più e lo faccio attraverso dei webinar lo faccio attraverso dei dei cataloghi delle FAQ e e ancora ho fatto uno step in più nell'avvicinamento ci stiamo conoscendo sempre di più l'ultimo livello la parte bottom del funnel quella in cui devo generare vendita o anzi da lead le trasformo in lead qualificati qualificati per il mio prodotto qualificati per il processo di vendita che io voglio realizzare con loro e questo lo posso fare attraverso una demo questo processo di crescita del lead che parte da sconosciuto da buyer persona in questo caso e arriva fino a lead qualificato viene definito l'innorturing ed è un processo per il quale cerco di andare a nutrire quello che era la mia buyer persona e man mano si trasforma in un prototipo di utente aggiungendo sempre un pezzo in più di lui a me e un pezzo in più del mio prodotto e di me a lui quindi completandoci vicenda rendendo questa relazione sempre più forte un esempio molto particolare è quello di demand result che va ad analizzare come chiudere da un lead a una chiusura in 60 giorni e va a pianificare non tutti i giorni ma una serie di giorni il tipo di attività anche in conseguenza del tipo di approccio che poi avrà l'utente che che verrà con lui non è la classica user journey che siamo abituati a vedere in un processo di user experience ma va un po' a dimostrare il fatto di una sorta di pianificazione del contenuto per la quale bisogna passare per questo tipo di approccio per per fare un esempio un esempio reale noi abbiamo provato a sviluppare il nostro blog interno in questa maniera non proprio così estrema nella definizione dei contenuti da pubblicare o più o meno per questi passaggi che sono stati inizialmente lavorare insieme al nostro team di commerciali facendo un audit su quello che era i nostri clienti attuali gli argomenti che ci venivano chiesti e l'interesse anche un po' in prospettiva su quello che stava venendo grazie a questo abbiamo identificato dei temi che dovevamo sviluppare in primis in questo blog e abbiamo definito delle buyer personas su questi temi relativi con le buyer personas vado a definire anche come dicevo prima le keyword su quali andare a lavorare e il tipo proprio di materiale che poi devo andare a sviluppare abbiamo settato degli obiettivi degli obiettivi che fossero smart cioè che fossero specifici fossero di numeri veri non voglio crescere tanto ma voglio crescere a 3000 degli obiettivi che fossero traccabili che fossero che si potessero toccare con mano che ci fosse un sistema dietro che ci aiutasse a scoprirli degli obiettivi che fossero realistici non voglio diventare google ma voglio arrivare a 3000 e degli obiettivi che fossero contestuali al business dell'azienda se io fossi un'azienda che fa social media non mi interesserebbe avere tre lead di utenti che cercano e-commerce e non posso pormelo come obiettivo e degli obiettivi che fossero temporali cioè che potessi misurarli soprattutto su una base temporale con una scadenza il passo successivo come dicevo anche prima successivo soprattutto alla definizione delle keyword è quella di andare a sviluppare un piano editoriale qui c'è solo un pezzo di quello che siamo andati a fare però indicativamente quello che abbiamo fatto è stato indicare per ogni giorno nel quale volevamo uscire con il blog o con qualche argomento qual'era la competenza che andavamo a sviluppare quali erano le keyword relative mantenere sempre fissa l'idea e il nome della buyer persona che volevamo raggiungere e anche il content manager interno questo non solo per un discorso di responsabilità su chi deve uscire ma anche per verificare una volta che andiamo a misurare il risultato di quello che stiamo pubblicando di mantenere una correlazione tra chi l'ha sviluppato insomma un modo per verificare l'affinità dell'editore del content editor rispetto a quello che è il risultato e qui si vedono le fasi di crescita del nostro contenuto relativo al prodotto cioè noi modifichiamo il tipo di tema sviluppato in base al grado di maturazione dell'utente modifichiamo le call to action ovviamente e l'approccio quindi che poi andremo a avere in realtà poi si sviluppa ancora di più ma non c'era spazio abbiamo il contenuto abbiamo definito la bella persona lo stiamo costruendo quello che manca come punto è la lead collection cioè come andiamo ad alimentare quei prototipi di utenti che abbiamo creato che abbiamo definito come andiamo ad alimentare queste informazioni man mano che loro visitano il prodotto io ho individuato indicativamente tre soluzioni e sono l'uso di software as a service come HubSpot Optify Infusion noi in particolare abbiamo utilizzato Aspot che ha una cosa molto comoda che è il fatto di poter pianificare le attività di fare delle mail delle landing ha una piattaforma di blogging interno quindi è un tool compatto che garantisce di monitorare tutto il flusso che stiamo sviluppando ha un costo importante ed è per questo che ci sono le soluzioni come un custom stack che vuol dire per esempio utilizzare un CRM come ZOO un send mail come può essere MailChimp o campaign monitor e Google Analytics per dire la fatica in questo caso rispetto ai software di prima è che dobbiamo andare a raccogliere tutte quante le informazioni e dobbiamo riuscire a unirle una con l'altra e non abbiamo un unico tool che le mette insieme la parte di custom software forse è quella che nasce più dal fatto che nasco io sviluppatore e quindi mi sono chiesto ma si può fare sì qualcosa si può fare non si può creare HubSpot fatto a mano ma tramite il monitoring dei cookie possiamo riuscire a vedere quella che è raccogliere tutte le informazioni della navigazione dell'utente finché non ci ha dato dei dati e anche dopo ma soprattutto finché non ci ha dato dei dati dal momento in cui ce li da noi colleghiamo tutte le informazioni precedenti a questo prototipo di persona e abbiamo tutto il suo storico più tutto quello che sarà e abbiamo veramente idea di cosa di cosa si può disegnare e l'ultimo punto è finalmente quello che ci piace di più cioè finalmente possiamo fare wireframe possiamo cominciare a progettare la struttura e vi assicuro che nell'approcciarlo la prima volta io ho cominciato da questa parte qui o nella parte comunque di definizione delle user persona e mettere tutto questo blocco davanti è stato parecchio difficile soprattutto nell'andare a scardinare alcune alcune idee che mi ero fatto e alcune idee che mi ero fatto che sono ad esempio questa cioè in un ipotetico iceberg di strategia del prodotto nel quale siamo abituati a dire che la parte più visibile è la parte user interface e sotto sta tutto quanto lo studio io l'ho resunto in UX ma comprende tutto l'universo però è ben sotto a livello dell'acqua in un ipotetico estremizzare questo questo argomento la parte di UX va quasi a ricadere al pelo d'acqua e sotto vado a definire prima quelli che voglio che siano i miei buyer i miei buyer definisco quelle che sono che voglio che saranno le keyword e tutta la strategia di contenuto quindi per fare un recap un po' più generico quando andiamo approcciare quel tipo di iceberg dovremo ricordare un paio di punti che sono trovare le buyer persona definire e mappare il contenuto quindi avere una strategia importante relativa a quello che è il contenuto che andremo a fornire a queste persone alimentare i nostri lead dare informazioni dare del prodotto dare dei contenuti riguardo il nostro prodotto a questi lead e trasformare tutto quello che possiamo raccogliere tutto quello che possiamo di più da loro ma quando andiamo approcciare quel tipo di iceberg non dovremmo mai fare come Leo altrimenti non vinceremo mai un Oscar abbiamo qualche minuto per le domande se ci sono ho visto che il processo di acquisizione anche per è un processo di 60 giorni pensi che questo valga soltanto per processi che debbano per farsi così lunghi o si possono valutare anche processi molto brevi perché questo è valido ma non scala no no infatti questo è ovviamente un esempio il nostro per esempio con i blog è decisamente più lungo perché lavorando su dei post che devono rimanere e sul concetto che quel tipo di blog più che un sito di news deve essere un'enciclopedia da questo punto di vista quindi deve risolvere i problemi man mano che la gente li avrà diventava molto più lungo però si può essere anche molto più corto questo era un modo abbastanza anche giocoso di rappresentarlo altre domande? grazie Matteo grazie